Ragazzi, veramente stiamo provando di tutto, abbiamo rilasciato i tacconi per quelli che vengono i tacconi, questo migliore, basta, veramente, niente, 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 ma ci sono i tacconi per i coglioni, ci sono moltissimamente guardati, i ragazzi anche sono dismalati, ma non molliamo, non molliamo, facciamo fino alle 18 e poi rientriamo, perché già siano dei coglioni, soprattutto il tempo, ragazzi, è veramente, è veramente vergognoso, però dai, va bene, lo ripeto a fare mille volte, il rilassamento c'è stato, è anche abbastanza, però adesso mi sembra che è arrivato il momento magari di uscire, perché cavolate, ma dai ragazzi, ci aggiorniamo, mi raccomando, mi raccomando, iscrivetevi, like!